Ehi la ciurma! Io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Alien Breed Impact? Sì, sì sì è lui. Allora, ci eravamo lasciati nello scorso episodio, stavamo cercando di arrivare all'ascensore, ma abbiamo avuto un pochettino di problemi nel frattempo, tra cui anche un po' di aliruncoli un po' troppo espansivi, ecco, che hanno cercato di... Ah, non puoi correre e mirare contemporaneamente? Anche perché non ce la faccio io con le levette. Non riesco a... ma forse... no, ecco, no, effettivamente non puoi. Ah, dobbiamo rifare tutto il giro. Qua eravamo tornati un attimo indietro per salvare, però c'è da andare di qua, fare il giro largo senza bruciarci magari. Sperando che non arrivi della gentaglia così a... a rompere le scatole. Allora, di qua bisognerebbe andare, ma... di qua dove... no, qua... questi sono solo gli armadietti, sì, mi ricordavo bene. Scusate ragazzi, ho ancora il naso un po' tappato, ho avuto febbre fino a... a ieri, quindi... abbiate pazienza. Spero non sia troppo fastidioso, diciamo. T'ho visto, t'ho visto, dove sei? T'ho visto? Ah, no, ero di qua. Ah, ok, noi dovevamo entrare di qua, mi ricordo, solo che... la situazione... dov'è? Ah, ehi. Sono andati. Vediamo un attimo, un po' più così, così non copriamo la... ce n'è uno qua. Ah, dov'è? Oddio, mi sono preso il danno comunque da fare. Ah, dov'è quell'albo? di qua. Prosebiamo con calma, attenzione, attenzione, che qua rischiamo di pigliarci delle pizze in faccia all'inverosimile. Eccala. Ok. Ma dei primi te ne abbiamo ancora abbastanza, però... ma qua è una stanza così a caso, proprio. Non c'è niente. Ah, ci servirà forse quel terminale dopo, ma adesso no, perché... Oddio. Quella fare là in mezzo non mi piace. Vediamo che cosa... ecco, già c'è qualcuno qua. Ehi, quello non l'avevo visto. Pupazza, pupazza, morite tutti. C'è un knockback star, ma... potenza, managgia la miseria. Eccala. Eccala. Adesso arriverà da questo lato, volete vedere? Ah, no, di là. Dov'è? Non si vede un Kaiser. Muori, 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 muori. Scusate. I'm sorry. La porta richiede corrente elettrica. Con solo alimentazione e porta. autorizzata. Ah, abbiamo bisogno di codici di sicurezza. Porca la miseria. E qua mi sto perdendo, assolutamente. Non so più dove Kaisers dobbiamo andare. Dove siamo? Di qua dobbiamo tornare, sembra. Ah, forse dobbiamo andare in quella stanza dove... Eh, banote, qua è esploso tutto. Quindi dovremmo fare il giro lungo qua. Eccala. Venite, venite. Vieni. Vieni, vieni, bel bambino. Vieni, vieni, vieni. Aspetta. No, forse andò così. Va, 200 poteva anche... Dal qualcosina di più. Vabbè, è come dei... Poriettili per il... Cos'è quell'affare? Boh, sembra tipo un robot che sta cercando di riparare quell'affare, ma... Di là non possiamo passare perché c'è l'affarino. Dobbiamo andare di qua. Sarà in questa stanza qua, probabilmente. Che non potevamo... Ah, ecco sì. Infatti, al terminale a cui non potevamo accedere prima. Operazione successiva. Ma è fatto tutto così, cioè nel senso che bisogna sempre andare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Qua è esploso tutto, dobbiamo fare il giro lungo. Attiva il meccanismo della porta, quindi dobbiamo ritornare di là. Eh, non è che potevamo trovare i codici di accesso prima, ma effettivamente questo è anche ragionevole. Nel senso che se ti trovi in quella situazione non è che sai già prima che dovrai poi ottenere i comandi della porta perché la porta è bloccata e ha bisogno dell'alimentazione. Di conseguenza, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. E siamo solissimi, tra l'altro, in sto coso... in sto posto del Kaiser. Eh, eh... Eccala, eccala, eccala. Ma... Ok, mi ha fatto un po' di danno. Ah, perché più che altro il casino è che quasi sempre ti cercano di chiudere tra due, nel senso che ti attaccano sia da un lato che dall'altro, quindi se indietreggi per cercare di non farti colpire mentre spari, ti arriva l'altro da dietro. Quindi cercare sempre di prendere una posizione... Uh, c'è una registrazione. Sì, ma prima... Voglio andare qua al terminale Intex che non si sa mai... Tra l'altro c'è pure la... Musica ansiosa qua. Armi, allora... Eh, sì, ne ha 400, perfetto. Ecco, non ne teniamocene perché potrebbero servire. Eh, kit medici ne hai? Sì. Vai, vai. E ti vendono due granate a frammentazione, in compenso, che tanto non le uso. E... Potenzialmente non abbiamo un Kaiser. Abbiamo un Kaiser di potenzialmente. Perché qua cosa che ha? Sparo rapido, ma non ha senso secondo me. Miglior ricarica... Ma io andrei di danni, ma non abbiamo assolutamente soldi per fare un potenzialmente del genere. Probabilmente perché consumo troppi medikit. Non mi piace però la situazione qua. Non l'avevo visto quello, pupazza, pupazza. Ah, ok, delle munizioni per fortuna, anche se avrei bisogno più che altro di... Non mi piace qua, no, 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 no. Non ci siamo capiti. Ah, qua c'è una torretta. Ah, ok, io mi ricordo perché c'è la torretta. Da un certo punto... Il... A un certo punto il sistema non lo capirà più un Kaiser. E allora ci scambierà per degli intrusi, perché non diamo tipo un codice. E allora le torretti inizieranno a sparare, che bestia. No, senti, io ora vado qua da questa parte. Fin dato che c'ho la torretta dalla mia parte. Qui c'è il medico. Boh, magari mi sparerà dopo questa torretta, però per ora mi sta servendo un sacco perché non sto sprecando neanche munizioni. GG, grande torretta. Yeah. Yeah. Mi è rimasto solo un kit medico piccolo, però. Non bueno, non bueno per niente. Andata? Andata? Eh... Dove bisogna andare sto giro? Ah, non ho salvato il terminale prima, porca pupazza. Eh... Eh... No, questo è un altro. Conviene tornare indietro? Forse sì. A parte che spero che non ci sia un altro assalto così imponente nei prossimi secondi, ecco. Oh, 200 munizioni. Perfetto. Abbiamo parecchie munizioni ora. Eh... Armadietto. Neanche cosa c'è. Niente. Tanto per cambiare. Con la nostra fortuna qua. Eh... 200 munizioni. Grandioso. Adesso non abbiamo tato problemi di munizioni. Per fortuna. Anche perché in queste situazioni qua non ci fosse stata la torretta, ci sarebbero andate migliaia di munizioni. Ma dove dobbiamo passare, scusate? Cioè, qua è tutto chiuso, tipo. Andiamo un attimo indietro a salvare allora, intanto. Forse dobbiamo anche tornare indietro, non lo so. Forse c'è da spegnere quella porta, for... C'è quel... Quel posto là. Terminale, salviamo i pro... Progesti... I processi... Sovrascriviamo tutto, sì. Ti cerco Your Fan. Ah, per chiave magnetica... Abbiamo la chiave magnetica... Si... Non mi piace... Eh! Ho capito dovrei evacuare l'area, ma come lisai evacuo qua l'area! Uhhh Non prendere fuoco? Braaavo! C'è qualcosa qua... Niente! cosa sono sti affari voglio vedere dove ecco eccala eccala perché apriamo sempre quello sbagliato nulla di interessa adesso dovrei fare questo ok ha preso fuoco eh no non è morto pupazza staccaro mi è apparso infatti proprio calmini no c'è quello cattivo là c'è quello cattivissimo ok che è morto meglio così qualche geyser c'è si è già passati di qua si è da dove siamo arrivati qua è tutto franato no noi eravamo arrivati da questo lato non da quell'altro si dobbiamo andare di là allora eh naturalmente il tasto sbagliato come sempre eh è arrivato ostacolo lo so ma non posso sfasciarlo quello però qua c'è il fuoco posso passare là in mezzo al fuoco? no mi uccido qua ma poi torna indietro di là dove bisogna andare? ah c'è una porta qua che però è chiusa perché? è porta danneggiata ma eh quindi ah ecco qua oh cioè le scosse elettriche là che no quelli erano dei soldi? si puoi venire qua? ci sono altri tuoi amici? ecco dai facciamo una festa per tutti yeah super party party alien alien party ehi 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 quello è tipo quello elettrico si beh è meglio non sperimentare il danno che fa ecco che dite? siete d'accordo? console riavvio sorgente ionica vediamo se riusciamo a funzica si torna all'ascensore eeeh dov'è mo' l'ascensore? eeeh attention eeeh ti pareva eeeh attenzione restiamo concentrati wei 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 calmino calmino ma non era di qua lol ah si era no porca miseria no bruciamo l'ultimo kit medico usiamo quello grande ah ho una torretta lol allora vanno un sacco di soldi non so se veng ma ora ne abbiamo di soldi boh fare il potenzialmente danni beh intanto non siamo un terminale intex quindi usiamo sto kit medico grande eeeh buonanotte no medico piccolo ecco qua ah ecco eccolo il terminale intex vediamo un attimo se quanto ci da a vendere la torretta 600 ci da non so se vale la pena effettivamente vendo la granata frammentazione questo si ma dato questo l'abbiamo già comprato tutto quello comprabile quindi non c'è più un kaiser di niente non abbiamo tanti medikit quello è un po' un casino eeeh dove dove andare? ah di là no facciamo così che è meglio che è meglio ho sentito dei brutti rumori fortuna che c'è la nostra amica torrette fine? no ce n'è uno là torretta spara spara ce n'è uno là altro siamo? eh no ce n'è ancora qua posso andare? yeah l'ascensore è preso ciò vuol dire fine del livello se non sbaglio vero? vero? yeah continua salviamo qua si sovrascriviamo bom 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 quindi prima parte è andata ah ok ci sono dei buchi quindi bisogna fare con attenzione perchè bisogna bloccarli cioè li stanno bloccando ho raggiunto il ponte la maggior parte della ciurma non è stata così fortunata ah ok in pratica siamo stati colpiti da un da un'astronave molto più grande della nostra e diceva non è possibile avremmo scoperto e lui dice no no è qualcosa di strano è qualcosa che non è stato mai visto prima e quindi non capisce che cos'è una strana molto vecchia è una strana fantasma dice o almeno dovrebbe esserlo ok siamo arrivati nell'infermeria diciamo dove stanno curando la gente dice ah guarda che devi metter posto il braccio lui dice me ne sbatto cioè devo continuare dice le navi si sono incastrate una con l'altra quindi è un casino adesso cercare di andarsene dice che non hanno abbastanza medicine per tutti gran casino c'è della gente imprigionata sotto quello dice eh andate a salvarli Marlow e gli altri sono rimasti trappolati non so quanto possono resistere e l'altra si incavola dice no non puoi andare rischi tutto morirai eccetera eccetera e lui dice me ne frega un Kaiser io vado ciao bel bimbo ciao ciao medico posso parlare con medico se parlo con medico si dice ah ok gli uccide tutta la gente lui mi segue vabbè ma per questo episodio è abbastanza visto che sono già passati 20 minutes ci rivediamo qua con il prossimo episodio giovedì giovedì perché questo è lunedì oggi è lunedì ciao uuuu vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi se per caso non l'avete già fatto io sono Mazzetess e vi auguro buona giornata ciao a tutti ciao ciao ciao